Grazie a tutti! C'è Packer, lascia libero Rauci. Attenzione, campo aperto per Packer! Nessuna sua strada. Ancora Collone in allontanamento. Tutte e due ex Pistoia. Johnson è un talento assoluto. Sì, una buonissima difesa. Canestro al volo! Collone su di noi, il blocco di Pancelobri. Vada Spanghero, la tripla di... A vedere il duello O.G. barbante. Intanto però Collone fa saltare l'avversario. Step back di Pollone. Pollone! Ancora Pollone. Lo scarico no per Barbante che ti restituisce il favore. Giuri, seguito da Italiano. Un assist da parte di Guariglia. Rapida e ben fatta da parte di tutti i componenti dell'attacco di Treviglio. Attenzione, la difesa di Treviglio costringe Rieti a... Arriva il blocco di Guariglia. Harris si muove. Quattro su di lui. Cambio mano! Mamma mia! Attacca Miaschi che tiene la difesa. Si dà invece da Oga che inizia il tedesimo duello a sconda Guariglia. Alza la parabola! Giornate risulta essere la terza di Rieti. Partirà dal suo fondo campo. Scania Rieti è riuscita a non farsi sfuggire definitivamente. E adesso attenzione perché c'è Jens Johnson. Recuperata da Packer che ha per paneggio campo aperto. Harris per concludere un altro campo di mano. Cinque di Guariglia. L'attacco di Rieti. Palla intercettata. Campo aperto per Taranelli! Finalmente arriva Sarto. Johnson. Dieci secondi per questa azione. Johnson da tre. Dentro! Che non perdona da tre se gli viene lasciato tutto questo pazio. Insisto. Nel frattempo Vitali. Jets Johnson per il palleggio. Spanghero raddoppiato. Si libera Johnson. La tripla. La tripla di Jets Johnson. Partito ai suoi colori. Giuri. La penetrazione. Lo scarico per Pollone. Che guadagna qualche metro. E poi colpisce. Spanghero. Spazio per la tripla. Del giocatore di Cividale del Friuli. Trentaduesimo minuto di gioco. Sacchetti la tripla frontale. La risposta! Italiano può giocarsi Spanghero. Che ha un'extra pezza per Sarto. Che si sblocca dalla potenziale parità. Si riprova Packer. Dopo rimasto e l'attacco di Guariglia. Li mette dentro. Nuovo Vitali. Quattro secondi per chiudere. Arresta il tiro di Luca. Luca. Sia difensive che offensive. Ne abbiamo avuto un esempio. In questo attacco. Ma al frattempo. Almania. Vitali. Oga. Per Johnson. Sotto ancora per Oga. Affrontato. Buono il cadet. 84-85. Adesso la risposta di Federi. Abazzo per Dustin Oga. E' il 27 ribadzo di squadra. Spanghero per la tripla dall'angolo. Micidiale. Vitali nell'angolo per Packer. La finta. Lo scarico per Miaschi. Un'altra finta. Trova anche lui. La doppiato. Guarigna distorca il pallone. Ultimi due secondi. Non tira. Non tira.